ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad autopolis oggi vi propongo un post qualifiche del gran premio di austria ed è pole position per maverick pignales con un signor tempone 1 23 e 4 non è un tempo da record il record del tracciato appartiene a mar marquez con 1 23 e 0 ottenuto la passata stagione ma comunque è un tempo del tutto rispetto per lui come medie all'anteriore soft al posteriore seconda posizione per jack miller con un tempo di 1 23 e 5 per lui entrambi gomme soft grandissima sessione di qualifica terza posizione per fabio quartararo con un tempone di 1 23 e 5 pure lui medie all'anteriore soft al posteriore quarta posizione per andrea dovizioso e su andrea mi fermo un pochino perché è stato confermato dal suo manager che non sarà più pilota ufficiale ducati per la stagione 2021 quindi andrea si dovrà trovare una nuova sistemazione per ora l'unica sistemazione che può rendersi disponibile è quella della aprilia in caso che l'appello di annone non vada a buon porto per dobi un tempo di 1 23 e 6 quinta posizione per paul e spargarò di cui si aspettava magari un pochino di più per lui un tempo di 1 23 e 6 ma una scelta abbastanza particolare di gomme hard all'anteriore soft al posteriore sesta posizione per mir con un tempo di 1 23 e 6 medium all'anteriore soft al posteriore settima posizione per morbidelli con 1 23 e 7 medium e soft ottava posizione per rings con un tempo di 1 23 e 7 pure lui e considerando che il ring non è al top della forma fisica questo ragazzi è un tempo da cappello non una posizione per joan sarco con un tempo di 1 23 e 8 sempre joan con la moto 2019 decima posizione per nakagami la miglior honda con un tempo di 1 23 e 8 undicesima posizione per oliveira 1 23 9 dodicesima posizione per valentino rossi che ha fatto molta fatica per lui un tempo di 1 23 e 9 tredicesima posizione per danilo petrucci che oggettivamente poteva fare un miglior tempo se non fosse stato bloccato da alex spargarò alla fine danilo se l'ha presa male e li ha fatto vedere anche il dito medio quattordicesima posizione per alex spargarò per lui un tempo di 1 24 e 1 quindicesima posizione per cal crash lo sedicesima per riker lecuona 17esima per brad binder 18esima posizione per alex marquez 19esima per stefan brader le onde hrc ufficiali rep soul che stanno facendo davvero davvero tanta fatica 20esima posizione per bradley smith 21esima per tito ravat e 22esima per michele pirro il delta tra il miglior tempo e il peggior tempo di questa sessione si aggira intorno ai due secondi ma ora senz'altro vi parlo di quello che è successo con andrea dovizioso e ducati e l'inizio proponendovi le dichiarazioni del manager di dovizioso simone battistella abbiamo comunicato ducati che andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni che adesso vuole concentrarsi sulle prossime gare ma che non ci sono le condizioni per continuare insieme non lascerà comunque la moto gp anche se non ci sono negoziazioni in corso con altre squadre è stata una riflessione fatta nel corso dell'ultimo periodo andrea si sente molto più sereno adesso che ha preso questa decisione beh ragazzi la ragione per cui dovi non verrà rinnovato è semplice alla base risiede una questione nettamente economica vi dico tra l'altro che rimangono dentro della ducati due sedile liberi per il 2021 ma in teoria un sedile sarebbe già stato giudicato quindi rimarrebbe solo uno che potrebbe in teoria sempre andare a finire nelle mani di jorge lorenzo magari c'è una possibilità nella ducati ufficiale vi dico che vedremo o sarco o pecco bagnaia e questo è stato confermato da tardossi per ultimo vi propongo le dichiarazioni di petrucci che ha parlato del rinnovo di dovi e ha tra l'altro criticato la ducati andrea ha fatto un grande lavoro in questi otto anni ed essere giudicati per le ultime due gare o per le prossime due non mi sembra una grande idea mi aspettavo questa notizia conosco andrea molto bene e conosco molto bene anche la ducati non c'è niente di nuovo era nell'aria non è stata una sorpresa non c'era spazio per nessuno dei due per continuare in ducati sono convinti che il potenziale di questa moto sia molto diverso rispetto a quello mostrato da andrea capisco la sua scelta al 100 per cento sulla gestione dei piloti in ducati mi sono fatto un'idea ragazzi un altro che ha criticato questa scelta di ducati è stato casey stoner per ragazzi per ultimo la notizia di ultimo minuto e questa ha a che fare con la yamaha che aveva chiesto di aprire i motori per riuscire a soluzionare questo problema che hanno di affidabilità ma è arrivato un secco no da parte della onda e da parte della ducati quindi se la dovranno cavare con quello che hanno altrimenti scattano le penalità questa è una notizia importante perché la yamaha ormai è quasi al limite beh ragazzi allora per questo post qualifiche è tutto se vi è piaciuto del like iscrivetevi al canale fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti ci vediamo domani con il post gara un saluto a tutti alla prossima